Oggi siamo in radio e non ci stiamo capendo un emerito, guardate Simone, sembra Gollum. Che sta facendo Simone? Sto cercando qualcosa da dire. Appena cambiato la pagina, era su un sito porno. Sto sulla pagina mia, no, non lo so. Che facciamo? Comunque, dicevo che sto cercando qualcosa da dire ma non trovo un cazzo da dire. Sì, sono in palla. Manca un'ora ancora. Vabbè, poi ci abbiamo uno sport. Siamo una sport, una telefonata dal mondo. Una telefonata dallo sport. Basta.